E' pronto il piano strategico metropolitano che prevede numerosi investimenti anche notevoli per quantità di soldi investiti nell'area metropolitana. Qual è la sua opinione a proposito di questo progetto? Ma che si vada di ridisegnato un assetto strategico dell'intera città metropolitana di Napoli mi sembra cosa buona e giusta, anzi oramai siamo in ritardo rispetto a quelle che sono le necessità del territorio c'è bisogno di guardare la città metropolitana come un'area vasta, un'area di circa 4 milioni di abitanti che va da Capri all'estremità dell'area puteolana dall'altro lato che affaccia sulla costa del Vesuvio ma al tempo stesso a territori interni che sono l'area nord di Napoli che hanno notevole difficoltà a mettere a sistema tutto questo e inserirlo in un'ottica policentrica di relazioni, di reti, di interscambi di messa a sistema di quelle che sono le enormi potenzialità che tutta l'intera area metropolitana di Napoli ha mi sembra cosa buona e giusta. Ovviamente le risorse che sono in campo sono risorse che possono essere utili ma non ritengo siano esaustive per risolvere tutte le criticità che abbiamo. Il suo comune ha già in mente qualche progetto sul quale poter convogliare i finanziamenti che arriveranno? Noi chiediamo alla città metropolitana innanzitutto di adempiere a quelli che sono i suoi compiti istituzionali noi abbiamo la strada che collega a Gerola con il resto del mondo, oserei dire, che è la Gerolina che è stata interessata recentemente da imponenti fenomeni di dissesto e che grazie all'impegno della struttura tecnica della città metropolitana è stata in qualche modo tamponata ma non messa a sistema, va rimessa a sistema l'intero asse viario che collega Gerola con l'entroterra stabile, quindi va fatto un progetto strutturale per adeguare una strada che è stata progettata e realizzata nel 1800 dove passavano le carrozze, i cavalli e le mucche oggi passano i tir di 500-600 quintali quindi capirete bene che c'è bisogno di un'imponente opera di ristrutturazione di quello che è l'asse brigare per garantire la mobilità non solo delle persone ma delle merci e di tutto ciò che rende vivo e vitale un paese la seconda cosa è che abbiamo un'esigenza legata alla costruzione di una sede per l'istituto alberghiero di Agerola che negli anni è diventato leader di una serie di affermazioni di successo recentemente un allunno dell'alberghiero di Agerola ha vinto il campionato mondiale di pasticceria Junores ci sono chef affermatissimi, alcuni che hanno già avuto la stella Michelin che vengono dall'alberghiero di Agerola è in condizioni molto ma molto precarie come location perché è all'interno di un immobile che noi come comuni di Agerola abbiamo dato che è incomodato ad uso alla città metropolitana ma è oramai insufficiente loro sono berati da doppi turni, da spostamenti tra più sedi, tra laboratori che non riescono più a reggere i bisogni didattici, penso che sia arrivato il momento di costruire un istituto alberghiero progettato per fare la scuola berghiera con tutti i bisogni e le necessità per quanto riguarda invece il comune di Agerola noi abbiamo l'ambizione di poter offrire alla città metropolitana di Napoli ma ai cittadini del mondo uno dei più belli per vedere dell'universo, ritengo che è quello dell'affaccio, dell'estrema propaggine della città metropolitana di Napoli sul golfo di Salerno e in uno di questi belvederi stiamo costruendo un parco pubblico che possa essere un attrattore, un volano di sviluppo, è la località Parco Corona del comune di Agerola dove noi siamo per creare tutto un sistema di riqualificazione, di investimenti tesi a valorizzare quello che è l'enorme patrimonio naturalistico e paesaggistico che noi abbiamo. Grazie